ed eccoci di nuovo insieme per la seconda parte del nostro appuntamento con angoli si sto ridendo sto ridendo perché c'è lui qui con me massimiliano angioni ciao dove devo guardare dove pare allora prima cosa so che adori questo divano allora dicevo che è un po' larghino perché allora cioè io sono lontano un metro e mezzo è un po' larghino fa molto sai quando tipo vai da dai genitori della tua fidanzata la prima volta sediti qua sediti qui un attimo che parliamo lei va in bagno mezz'ora e tu sei lì così si sono molto bravo sembra fa molto un po strana perso perso su questo divano assolutamente e quindi l'avete capito lui è un attore comico straordinario l'abbiamo visto tantissime volte qui a como al teatro in centro ma anche soprattutto a zelig ci sarà un'occasione imperdibile proprio il 25 gennaio al teatro lucernetta con è tutto vero qui a como insieme a lui massimiliano angioni ma che cosa è tutto vero tutto non so guarda tutto vero niente non aspetta fa un'impressione questa presentazione un attore comico straordinario è lui è lui è qui con noi sul divano grande ne parlerò con la mia psicologa no niente tutto vero cos'è il mio spettacolo che io siccome parlo di cose che conosco cioè in genere bisogna parlare di cose che uno conosce siccome io tu sei esperto di cosa solamente nulla però hanno detto di cosa posso parlare io di le cose che conosco io cioè io vado al cinema e parlo del cinema vado nei negozi di articoli per la casa con la mia compagna quindi parlo di convivenza di negozi parlo del mio lavoro anche che feste di complesso per bambini e quindi esorcizio un po metabolizzo tutto quello che mi succede in chiave ironica comica e quindi hai portato tutto questo sul palco sì perché ho monetizzato capito cioè tu vivi delle robe e poi è questo che conta alla fine conta conta moltissimo ma di tutte queste situazioni che mi hai raccontato qual è quella che ti piace di più alla fine ci ridi sopra ma alla fine ti ci diverti a me piace tanto andare a negozi con la mia compagna ero sicura che tu mi avresti detto questa cosa quindi fammi un momento un momento vero di te la tua fidanzata al negozio il discorso succede questo non so noi entriamo in questo negozio di articoli per la casa il primo reparto è quello delle candele che possiamo non diciamo ovviamente quale negozio saranno possiamo immaginarlo uno grande non è quello non è quello più grande è quello un po più perché è è diverso è francese e la candele lei entra prende le candele e le annusa ci sono un po' come entrare in un elettrotecnica e leccare le lampadine capito le annusa e mi fa ascolta amore ascolta amore ascolta cosa ne pensi delle candele io le faccio mi chiede nel 700 erano tanta roba le candele e scrive adesso ho pagato 90 euro di bolletta no dai cosa intendi le prendiamo no amore prendiamo metti che tu metti la candela perché devo boicottare qualsiasi suo acquisto la candela col fuoco sul tavolino in legno se cade la candela si brucia il tavolino è pericolosa la candela non prendiamo la candela non prendiamo le due per tua mamma di candele così le regaliamo ecco ha trovato il sistema insomma quindi questa è una delle situazioni più frequenti e soprattutto vedo che poi pensi anche al ritorno a casa quindi cerchiamo di stare in sicurezza di non chiamare assolutamente i pompieri assolutamente quindi una delle situazioni più simpatiche sì queste qua perché comunque lei è una che saluto ester un tanto assoluto la mia compagna è fonte di grande ispirazione è vero quindi tu la ossa oltre ad amarla moltissimo che bel rapporto che hai creato amore ciao lo stai facendo scrivo appunto no vabbè comunque si parla di quello che si io cerco di trovare argomenti condivisibili chiaramente 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 argomenti condivisibili come la convivenza appunto e quindi negozi articoli per la casa oppure anche al cinema non lo so siete d'accordo di solito sulle pellicole da scegliere sì per tornare ai negozi articoli per casa sull'arredamento no ad esempio lei ha voluto comprare sto tavolo in legno un legno biologico un legno naturale particolare no che parla quasi quasi parla che a me non piace sto lì perché l'abbiamo messo questo tavolo l'abbiamo messo in cucina dopo due mesi volevamo spostarlo non potevamo perché ha messo radici capito è un legno è un legno che è vivo ma una roba quindi non eri d'accordo e forse c'era un accordo però mi dà spunto per tante cose insomma certo per comunque per amarsi bisogna che qualcuno ceda e questo qualcuno sei tu ecco sì esatto esatto infatti sì c'è anche compromessi no sono importanti per esempio ma per esempio appunto sempre parlando di mobilio così chiudo l'argomento lei ha voluto comprare questo mobiletto in tech un altro oltre al tavolo che abbiamo in soggiorno mobiletto in tech il legno che ho scoperto perché si chiama tech si chiama tech perché tech il suono che fa l'osso del mignolo quando ci picchia dentro tech capito ma io non c'è non sopporto più quella cosa però si accetta perché poi mi dà spunto ti dà spunto sono momenti difficili ma poi alla fine quando quando escono insomma va bene che siano così questa l'ultima così ha voluto prendere questa lampada di sale ionizzante ah beh è fantastica ce l'ho anch'io a casa ma che fantastica ma non dire quanto mi fa amore questa lampada qua è fantastica cosa fa questa qua fa sentire gli ioni ah e quanto costa questa 40 euro quant'ora mi sento io uno ione a prendere la cosa come ma mi sento io uno ione a figurte le fa girare gli ioni le fa girare vero vero quindi insomma dopo il tavolo che ha messo radici il tavolino in tech per il rumore la lampada e quant'altro ma che ne pensi di sto divanto porti via allora allora comodo è comodo è certo solo chi uno viene qua e si aspetta una e poi c'è non copre lo spazio cioè non riesce a intanto ti sei anche spostato ti sei sdraiato hai fatto di tutto e quindi bene senti ma chiuso l'argomento arredamenti e quant'altro in questo spettacolo hai detto racconterai comunque proprio perché il titolo è tutto vero tutte cose vere tutte cose che prendono spunto dalla realtà perché raccontando cose vere uno può anche servirsene utilizzarle raggio perché se parlassi esempio io non creo battute si è visto non creo battute io racconto semplicemente quello che che mi accade sperando che qualcuno si possa riconoscere possa ridere di cose che accadono un po a tutti ecco ma come si è arrivato a zelig quindi che ce lo racconti ovviamente non in maniera diciamo diciamo cagata perché 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 allora io ho fatto questo corso per teatro durante anni ho fatto questo corso all'accademia del comico a milano lì un insegnante autore alessio tagliento mi ha guardato e ha detto guarda vai a fare il provino al laboratorio porta questo monologo che va io ho portato lì al laboratorio a zelig ho portato questo monologo ho portato anche un personaggio che era acquaman questo personaggio probabilmente entra in mezzo allo spettacolo a petto nudo e urlo questa cosa è piaciuta e ho detto guarda il monologo si va beh come è bello vieni a fare ma come ero a petto nudo ma quello grande quello bello allora ho avuto questa fortuna in mane questa cosa bellissima di avere la possibilità di frequentare quel posto di fare anche delle il programma zelig time che va su 63 del digitale ed è una fortuna immensa perché sei a contatto con persone bravissime esempio i due presentatori davide pagnate fedelico basso sono sono fantastici ma anche altri comici vincenzo albano silvio cavallo sono veramente professionisti veri che ti fanno anche salire il tuo livello di di preparazione quindi impari tanto comunque lì dentro pari solo pari solo tu vai lì fa le tue cosine prove di gente che lo fa seriamente capito però in effetti lui tra queste gag tra zelig e quant'altro fa tantissime cose ma vorrei se puoi che tu ci regalassi anche magari una gag un aneddoto qualche cosa davvero insomma tuo tuo che riguarda zelig ma sì allora ad esempio questa cosa è successa io facevo appunto questo personaggio a come che entra a petto nudo allora mi chiamano per la puntata di zelig time vieni facciamo la puntata io dico ah va bene fantastico chiamo mia mamma dico mamma vieni a vedere la puntata vieni faccio un personaggio a zelig e fa amore che bello è molto pacata allora viene a vedermi c'è lo spettacolo io entro tre volte a petto nudo facendo va bene dopo la puntata vado a mia mamma a vedere se gli è piaciuto cosa mi dice cosa mi dice certo lei arriva io dico mamma allora mi hai visto mi sono piaciuto lei mi guarda fa amore come sei ingrassato no non ci credo e tu sei rimasto mamma grazie grazie mille quindi queste sono insomma le soddisfazioni che si raccolgono in famiglia e va benissimo ma la tua fidanzata invece ha avuto lo stesso punto di vista o è stata più gentile lei ti ama lei mi sostiene sempre è sempre dalla mia parte lei tra l'altro ha una pazienza perché io tutte le cose che magari provo poi in trasmissione battute eccetera prima le faccio sentire a lei quindi la scena sempre è questa qua è questa qua amore ascolta devo dirti una cosa sì vai allora cosa fanno queste cose che fanno queste cose così quindi le vostre serate sono così insomma tu pensa te che quindi il minimo che devi fare andare con lei comprare qualunque tipo di arredamento questa povera donna assolutamente voglia portarsi a casa ma detto tutto questo allora lo ricordiamo ancora massimiliano angioni sarà il 25 gennaio al teatro lucernetta a como con è tutto vero ci sarà questo moltissimo altro tutto quello che nella sua vita fa vero fa bello fa risate fa divertente fa divertente quanto è bello fa divertente perché lui è sì massimiliano angioni ma è anche e soprattutto come grazie mi ha fatto fare questa cosa grazie la volevo sin dall'inizio benissimo massimiliano angioni ti ringrazio tantissimo che aspettiamo quando vuoi un bocca al lupo per tutto quello che verrà grazie 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 mille del lupo rimanete lì tra poco forse c'è l'informazione grazie a tutti Grazie a tutti.